eccoci con il capitano pippo lanza alla vigilia di una partita importante come quella con padua finalmente il debutto fra le murami che l'avete atteso tanto domenica arriva sì per fortuna ritorniamo al palatrento sarà sicuramente piacevole rivedere tutti i tifosi risalutare tutti gli amici e sarà bello perché ci sarà una bella partita da vedere tante emozioni una squadra nuova insomma torneremo a puntare a vincere al palatrento che la cosa più importante magari anche a rimanere a punteggio pieno se possibile perché sarebbe il modo migliore per arrivare poi ai due big match che vi aspettano nella successiva settimana mosaic champions league e perugia certo noi puntiamo sempre a fare il massimo i tre punti sono fondamentali anche perché poi ci saranno scontri diretti in campionato con perugia insomma dove sarà un campo difficile è importante insomma sfruttare il momento adesso e portare a casa più punti possibili ti hanno chiesto in tanti che effetto fa fare capitano prima che indossarsi questa fascia e adesso adesso è ancora più emozionante perché ti rendi conto realmente che è successo ti rendi conto che tanti e hanno piena fiducia in te e tu la hai verso la squadra quindi è una bella emozione è un bel compito una bella responsabilità spero veramente di andare avanti così perché finché ci sono le vittorie e c'era sicuramente grande emozioni per tutta la squadra e tutto sommato stai anche dimostrando di meritartela perché nonostante le difficoltà fisiche che ci stanno stai giocando buone partite si non sono completamente contento però anche vero che è un inizio di campionato è vero che la stagione è lunga ci sono tante partite da giocare e siamo un po in una fase emergenza quindi ci stanno tutte queste cose bisogna ritrovare un po il buon gioco e fare emozionare prima di tutto i nostri tifosi e poi noi ottenere più punti possibili